A Bernadette Lobianco il premio Una vita da fiaba 2022, turismo accessibile e inclusività, la mia missione. Premiare l'inclusività è uno degli obiettivi di Una vita da fiaba, evento giunto alla 14esima edizione organizzato dall'associazione Life con la collaborazione del comune di Acireale. Tra i tanti giovani famiglie che hanno preso parte dell'iniziativa nata nel 2008 c'era anche la Presidente di Sicilia Turismo per Tutti, Bernadette Lobianco. Per lei un premio per il contributo e l'impegno profuso nello svolgimento dell'opera di sensibilizzazione e di informazione nell'abbattimento delle barriere culturali e fisiche. E' stato molto emozionante ricevere questo premio, dice Bernadette Lobianco, sono davvero onorata, non posso non ringraziare gli organizzatori che come me si spendono per migliorare la qualità della vita delle persone speciali. E' stata una serata molto bella ed emozionante e ancora purtroppo c'è tanto da fare. La nostra associazione è sempre in prima linea per raggiungere obiettivi sempre più inclusivi nel turismo e nella cultura. Durante l'evento esibizioni di teatro e di danza con persone in sedia a rotelle. Premiati anche gli atleti che hanno raggiunto il gradino più alto del podio nelle competizioni nazionali. Una vita da fiamba, dichiara Palmina Fraschilla, vice sindaco di AC Reale, è un evento che consente di andare oltre il concetto di disabilità in senso stretto. Infatti sono protagoniste tante persone che hanno il desiderio di affermarsi e di mettersi in gioco come cittadini che non hanno barriere, perché le vere barriere, conclude, sono quelle di tipo mentale.